Ciao, sono Massimiliano Rosolino. Campione di nuoto, vinto le Olimpiadi, campione del mondo, ma sono soprattutto un preparatore fisico. È proprio in queste aule dove mi sono formato grazie alla Scuola dello Sport. Cerchiamo di conoscere insieme a me cosa ci nasconde dentro queste aule. Perete, cosa stai facendo? Il corso di managgimento olimpico. È il corso di alta specializzazione in managgimento olimpico. La Scuola dello Sport forma i tecnici, forma i dirigenti dello sport e tutti coloro che decidono di voler lavorare nel mondo dello sport. La Scuola dello Sport mi sta dando una formazione professionale importante. L'obiettivo per tutti coloro che frequentano la Scuola dello Sport è quello di contribuire allo sviluppo dello sport italiano. L'esperienza più bella ce l'ho avuta quando ci sono venuti a parlare i procuratori anti-doping. Io sono rimasta totalmente coinvolta, estasiata, travolta da questo mondo. Ho detto, quello è il mio obiettivo e nulla mi fermerà. La mia esperienza di essere stato un allievo della Scuola dello Sport mi è ancora molto radicata nell'anima, nel cervello, nel cuore soprattutto. E credo che la cosa più importante, l'insegnamento che io penso sia venuto qui dentro e che vorrei trasmettere a coloro che si avvicinano a questo nostro mondo è quello di avere umiltà. Noi stiamo lavorando moltissimo per riaprire completamente la Scuola dello Sport alle università, ad avere i docenti universitari, organizzare corsi e master insieme a loro. Nel mondo ci sono 206 coni, 206 colleghi. Praticamente nessuno ha una Scuola dello Sport al proprio interno. Quando entro nella Scuola dello Sport, nonostante non ci viva, mi sento a casa. È un luogo dove ci si può rapportare con chi come te pratica una disciplina, con chi come te vive da tutto se stesso per uno sport. Auguri Scuola dello Sport. Se il Coni è un grande Coni, mi auguro sia sempre di più, anche e soprattutto perché la Scuola dello Sport è parte integrante del Coni. Dopo questo piccolo assaggino, questa degustazione di sport, di motivazione e di formazione, cosa aspettate? La Scuola dello Sport vi aspetta.